e ciao a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video come state spero tutto bene ragazzi un po non ci sentiamo lo so sono molto impegnato e poi aspetto diciamo il momento giusto ed eccovi qui con un nuovo video ovviamente non vi potevo lasciare senza video prima di natale ragazzi come avete visto dal titolo e dalla miniatura è arrivato il tempo di sbloccare anche guan ora io vi metterò il video in sovraimpressione perché lo praticamente l'ho sbloccato registrandolo al cellulare e quindi io vi faccio vedere che praticamente l'ho già sbloccato guan eccolo qui ce l'abbiamo nelle nostre file tutto bellino con la barbara non ci posso credere finalmente abbiamo anche guan come vedete abbiamo già portato la prima abilità l'abilità attiva a livello 5 mi ha sbloccato le altre speriamo di riuscire a maxare la terza e la quarta perché la seconda non è non è tanto è importante male la terza e la quarta sono quelle migliori insomma io ho anche già settato il talenti sono andate a vedere sul rock guide praticamente io ho fatto la build da da openfield praticamente il ramo abilità l'abbiamo maxato tutto ora ci manca solamente qualche punto lo porteremo a 60 ce l'abbiamo a 50 ho finito i tomi della conoscenza porteremo a 60 sbloccheremo i punti e completeremo la build dicevo ragazzi nel frattempo mi sono dimenticato di farvi vedere alex l'abbiamo maxato finalmente abbiamo maxato pure alex che andrà in coppia appunto con guan rimanete sintonizzati ragazzi perché vi porterò anche un video che se è riuscito alla loro della fortuna riusciremo a sbloccare anche scipio so forse di aver fatto una cazzata a sbloccare guan con le gemme perché comunque con 150 chiavi però ancora per sbloccare 150 chiavi ce ne vuole sblocchiamo uno al giorno senza scioppare ci vuole ancora tanto tempo ecco guan l'avremo futuro di scattare qui però l'abbiamo preso ragazzi quindi rimanete sintonizzati perché scioperò per voi prima di natale come regalo di natale il fondo della crescita dove ci andremo insieme a completare la ruota di scipione l'africano ragazzi scipione l'africano e ripeto lo terremo parcheggiato perché maxeremo prima guan però comunque già il fatto di tenerlo e di averlo è tanta tanta roba ragazzi poi ci concentreremo sul bip al 13 e poi porteremo direttamente il castello al 25 e vedremo in quanto tempo le t5 che per ora sembrano ancora molto lontane ragazzi check del villaggio sto quasi portando tutto al 24 ragazzi mancano due ospedali c'è l'evento quello al meno 60 per cento ne ha approfittato diciamo gli accampamenti mi è rimasto solo quella lì dell'arceria da portare su il resto ecco il centro d'alleanza del 25 e niente ragazzi ci siamo quasi diciamo mancano poche poche frecce per portare anche la torre della vedetta al 24 siamo messi abbastanza benone ragazzi siamo arrivati a 25 quasi 26 milioni di potenza io vi lascio alla ruota della fortuna di guan dove lo sbloccheremo insieme ragazzi no lo sbloccheremo insieme l'ho già sbloccato una testina non ci fa di caso io vi do un saluto e se non guardate il prossimo video con la su scipione vi auguro anche buone feste a voi famiglie ragazzi da noi è tutto un bacione ciao ragazzi buona visione ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti